Questi provvedenti rispondono al disagio delle categorie, di tanti, di moltissimi operatori, famiglie, ragazzi e in questo senso portano a una maggiore serenità nel Paese, questo di sicuro. Portano alle basi per il rilancio dell'economia. Mi aspetto, tra l'altro, per quanto riguarda la ripartenza dell'economia, che avremo un rimbalzo molto forte nei prossimi mesi e poi dovremo attestarci su un sentiero, su un livello di crescita che ci permette, appunto, come dicevo, di uscire dall'alto debito, dall'alto rapporto debito-pil. La scommessa, il rimbalzo è certo, non è sicuro quanto sarà forte, anche questo è sicuro, non è sicuro quanto esattamente quanto forte sarà. Quello su cui però dobbiamo lavorare, della sfida in un certo senso più importante, è quella di assicurare che dopo la ripresa dei prossimi mesi continueremo a crescere, a mantenere alto al livello dell'occupazione e a crescere nella misura necessaria per tornare a essere un Paese che cresce dopo tantissimi anni in cui, purtroppo, la situazione è stata diversa.